Se penso che cinque anni fa stavi ancora dietro a quell'amico tuo con la fissa dei Beatles... Oh, ma lo sai che lui continua? Guarda, se me lo immagino ancora alla sua età, con la parrucca, a suonare... Ma una tristezza... Signor Piora! Purtroppo alla commozione cerebrale gli ha provocato una grave amnesia. E non si ricorda più niente? No, no, si ricorda quasi tutto quello che ha fatto prima degli esami di maturità. Anna, che hai fatto? Si è invecchiata da morire. Signora, lei ora è la depositaria del suo passato. È come se dovesse riformattare suo marito. Riformattare? Senti, vengo a stare da voi. Voglio vivere questi ultimi giorni che mi restano con la mia famiglia. Ma ti pare che torni a vivere con noi, con tua madre per giunta? Dai, non puoi impedire a una nonna di passare gli ultimi giorni con i suoi nipoti, con la sua famiglia. Beh, ma questo chi è? Mamma, c'è la catarata ma non ti sfugge il cazzo tra l'amore. Ciao, mi vedi! Ti devo dire soltanto tre parole. Sole, cuore, amore. No, sei una merda.